Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Il nome di Sardex, acronimo di Sardinian Exchange Network. Sardex nasce nel 2010 dopo alcuni anni di studio e di elaborazione teorica della nostra iniziativa, del modello che l'ha vista realizzarsi. Nasce nel 2010, aggrega in 5 anni circa 3.000 imprese che lavorano in Sardegna e circa 1.500-1.600 persone come forza lavoro di queste imprese. Quindi è un circuito composto da diversi tipi di partecipanti e quindi all'interno di questo circuito la caratteristica principale è che i trasferimenti di denaro non avvengono sotto forma di bonifici, di assegni, di contanti o altro che tradizionalmente conosciamo ma attraverso una unità di conto che sono i crediti Sardex che equivalgono come valore all'euro. Il funzionamento del circuito si basa sul presupposto che non tutto ciò che le imprese del nostro territorio sono in grado di produrre, il mercato tradizionale, il mercato euro è in grado di accogliere. Quindi abbiamo un potenziale inespresso, in parte è stato ovviamente legato alla crisi finanziaria che tutti conosciamo, in parte anche ad altri fattori, abbiamo un potenziale inespresso che noi attraverso il lavoro del nostro personale, quindi del servizio che mettiamo a disposizione degli iscritti e attraverso gli strumenti invece tecnologici cerchiamo di trasformare in valore. Tutti i partecipanti hanno un conto online, una carta e se sono delle attività economiche che possono avere una linea di credito senza interessi, a fianco a questi strumenti c'è un servizio di area broker, una serie di servizi legati alla comunicazione interna al circuito e un servizio invece di assistenza tecnica quando necessario. Questo insieme di strumenti e di servizi permette alle imprese di poter vendere in questo mercato complementare ciò che il mercato Euro non ha accolto nella sua totalità e di acquisire quindi un credito spendibile sempre all'interno di questo mercato per comprare i prodotti e i servizi necessari alla propria attività. In questo momento ci sono una varietà di beni e di servizi molto estesa dal nord al sud dell'isola, quindi il circuito rappresenta a tutti gli effetti un sistema integrato di imprese che sono complementari l'una all'altra. Vediamo il funzionamento tipo del circuito Sardex, adesso poniamo per semplicità di immaginare un circuito composto da tre imprese. Abbiamo ad esempio un ristoratore che notoriamente non ha tutti i tavoli pieni, soprattutto entro settimana questi tavoli sono vuoti. Il ristoratore non dovrà fare altro che mettere a disposizione dei partecipanti al circuito i propri tavoli. Quindi poniamo che un trasportatore che si trova spesso in zona, nella zona in cui è sito il ristorante, voglia fermarsi lì per pranzo. Si ferma, mangia nel ristorante e paga, poniamo, con 100 crediti Sardex. A questo punto il conto del nostro ristoratore salirà a più 100 crediti Sardex, mentre il conto del trasportatore andrà a meno 100 crediti Sardex. Il ristoratore con i suoi 100 crediti sul saldo potrà recarsi ad esempio dalla cantina vitivinicola per acquistare i vini di cui ha bisogno. Poniamo anche in questo caso per semplicità per un importo di 100 crediti. Il conto del nostro ristoratore andrà a zero, a questo punto il conto della cantina vitivinicola andrà a più 100. La cantina vitivinicola a sua volta potrà acquistare dei trasporti presso il nostro trasportatore. Poniamo anche in questo caso per semplicità per un importo di 100 euro, quindi 100 crediti Sardex. A questo punto il conto della cantina vitivinicola andrà a zero, il conto del ristoratore, cioè del trasportatore che era a meno 100, andrà a zero a sua volta e quindi tutti torneranno con un saldo a zero e nonostante poi la moneta svolta il suo ruolo sia scomparsa, la ricchezza che è stata prodotta attraverso questi scambi è rimasta. Spesso il lavoro che facciamo, cioè il lavoro che svolge il circuito Sardex viene erroneamente associato al baratto. Il baratto però è una forma di scambio bilaterale che sostanzialmente è uno scambio commerciale in cui la reciprocità è data solo dalla volontà di entrambi i soggetti di ottenere il massimo beneficio dallo scambio. È soprattutto un sistema, il baratto, che non coinvolge la fiducia. Io non ho bisogno di fidarmi del mio interlocutore per scambiare un bene contro un altro, proprio perché lo scambio avviene immediatamente. Sardex invece è un sistema di credito. Credito deriva dal latino credere e per l'appunto significa fiducia. Di per sé quindi Sardex è un atto di fiducia del singolo verso la comunità, in questo caso il circuito sardex.net, ed è la comunità verso il singolo. Quindi potremmo definirlo un sistema di mutuo credito. Semplicemente le imprese attraverso il proprio potenziale produttivo in espresso, quindi la propria capacità produttiva, vendendo dei beni ad altre imprese che a loro volta possono acquistarli ancora prima di aver venduto, finanziano la rete e potranno essere ricompensati da altri partecipanti alla rete stessa. Quindi passiamo, ed è qua forse il cambio più radicale di paradigma, da un paradigma del do ut des, quindi ti do perché poi ottengo qualcosa da te, al do ut possis dare, quindi ti do per metterti in condizione di dare ad altri. E questo forse è il carattere più eccezionale dell'iniziativa. L'idea di Sardex nasce intorno al 2007. All'epoca abbiamo iniziato a interessarci di due temi principalmente, da un lato la moneta e dall'altro il credito. Siamo interessati a questi due temi perché fondamentalmente la moneta forse è l'unica fede riconosciuta da ogni etnia, da ogni religione in tutto il mondo, ma è soprattutto lo strumento attraverso cui l'economia si manifesta. Non solo, in un'economia di mercato, di per sé il danaro è lo strumento attraverso cui il consumatore che viene definito il sovrano, cioè colui che decreta il successo o l'insuccesso di un'iniziativa commerciale esprime il proprio voto. Siccome la mercatocrazia non è una democrazia, quindi ogni testa non equivale ad un voto, ma in realtà più euro hai e più voti hai a disposizione, più dollari, yen, chiamolo come vuoi, capire come vengono distribuiti, da dove nascono, da dove arrivano è diventata per noi una cosa importante. Allo stesso tempo in quel periodo stava nascendo la crisi, c'erano i prodromi della crisi finanziaria e sapevamo che la crisi finanziaria si sarebbe trasmessa all'economia reale principalmente palesandosi in due stati di fatto, da un lato una stretta accreditizia e dall'altro la carenza di liquidità. Pertanto abbiamo iniziato a studiare tutti i modelli, insomma peregrinando per la storia, che fino ad allora erano stati utilizzati per superare questi momenti. Diciamo che siamo partiti dalle banche del popolo di Joseph Prudhomme, abbiamo analizzato i sistemi di moneta geseliana, quindi le teorie di Gesell sulla moneta Libra, sulla Freigeld, da lì abbiamo visto i primi esperimenti di moneta geseliana a seguito della crisi del 29 e le teorie di Fisher connesse alla moneta stampigliata e al demurrage, ma in particolare poi due elementi sono stati gli elementi che più ci hanno colpito, da un lato Vir, che è un sistema che come tanti altri nasce proprio dopo la crisi del 29, del 1934, ma la cosa che ci ha colpito è il fatto che fosse ancora in piedi nel 2007, quando avevamo iniziato a studiare questi temi. Quindi la longevità del circuito Vir ci ha colpito, peraltro siamo stati a Basilea proprio per capire e studiare meglio il modello, ma dall'altra l'altro modello che ci ha colpito ed influenzato è quello della International Cleaning Union di John Maynard Keynes, che nel 1944 propone la creazione di un sistema di compensazione tra nazioni, introducendo un elemento fondamentale che è il trattamento simmetrico di debitori e creditori. Keynes sostanzialmente dice questo, per far sì che ci sia equilibrio, e l'equilibrio significa pace, già a partire dalle conseguenze economiche della pace, Keynes inizia ad elaborare questo pensiero, è necessario che i creditori mettano in condizioni i debitori di ripagare, siccome per ogni credito c'è un debito, l'unico modo che un creditore ha per far ripagare i debiti ai debitori è spendere il proprio credito presso di essi, quindi inserendo un tasso negativo alle poste attive, quindi a chi era in credito, doveva pagare per il fatto che era in credito, se non spendeva quel credito, allo stesso modo che era in debito aveva un interesse da pagare, lo portava sostanzialmente a ripagare il suo debito, queste due spinte che sono divergenti nel mercato normale, perché generalmente c'è un premio se io tesorizzo, se io metto da parte, queste due spinte che sono divergenti nel mercato tradizionale diventano convergenti e portano verso lo zero, quindi verso uno stato di equilibrio. Chiaramente abbiamo ripreso questo concetto, anche noi trattiamo debitori di credito di maniera simmetrica, non c'è un premio di tesorizzazione in Sardex e questo fa sì che non ci sia nessuna spinta all'accumulo, quindi abbiamo levato il tratto di liquidità della moneta, quindi il tratto di riserva di valore per farlo tornare un mero strumento di scambio al servizio sostanzialmente degli scambi reali. Quindi tutto questo ci ha portato ad uscire da quella che è l'eterogenesi dei fini che si è creata, per cui il denaro da mezzo è diventato fine, per riportare insomma almeno nel piccolo mondo Sardex il denaro a essere uno strumento al servizio della ricchezza comune. L'iniziativa di Sardex nasce a Saramana perché buona parte dei soci fondatori a suo tempo erano tutti di Saramana. È nata qui, nonostante tutto è cresciuta, si è sviluppata ed è rimasta qui. Questo in un certo senso vuole essere anche un segnale in diverse direzioni, da un lato il fatto che da che mondo è mondo internet oggi dovrebbe eliminare quelle che sono le tante barriere fisiche anche per svolgere certi lavori, per cui si può fare un certo tipo di lavoro anche in un paese in piena campagna. E dall'altro anche quello di almeno per quanto riguarda i fondatori di aver costruito una realtà di impresa che restasse a portata di mano. Di fatto quello che oggi Sardex sta portando avanti è uno sguardo, è un'attività differente per favorire, per riossigenare l'economia locale. Ed è un approccio molto interessante delle dinamiche e delle attività di costruzione di retti che probabilmente in un'economia iperfinanzializzata, che è quella di oggi, sono una delle poche strade che consentono a territori marginali o comunque periferici di mantenersi in vita, di riattivarsi e soprattutto di riattivare produzioni che sono molto importanti per la vita di tutti. Ma intanto il credito Sardex si può spendere in Sardegna, quindi già questo fatto ci obbliga a spendere la ricchezza che produciamo con questo circuito complementare e supplementare localmente. E poi perché è come se stimolasse lo spirito critico, il consumo critico degli iscritti e dei loro dipendenti e mi facesse scegliere con più attenzione quelle iniziative locali che valorizzano davvero i beni e il territorio. Quindi da questo punto di vista abbiamo N più 1 esempi. E poi un'altra cosa molto interessante, noi diciamo siamo come le sinapsi che riconnettono neuroni sconnessi, neuroni economici sconnessi nel territorio. Osserviamo la costruzione di nuove attività imprenditoriali che nascono dall'incontro quasi casuale, ma favorito dalla presenza nella rete, di operatori che non si conoscevano, che magari non solo fanno degli scambi, ma dopo lo scambio economico questa relazione sociale permette loro di fare anche altro, quindi di immaginare altre attività imprenditoriali, di sostenere altre attività imprenditoriali e quindi questo ci rafforza nello stimolare la connessione sociale che precede e segue lo scambio economico curo. E forse proprio come diceva prima sia Carlo che Bioniere, questo è il valore vero di Sade, cioè l'attenzione al territorio inteso come rete dei suoi abitanti. Quasi tutti i partecipanti utilizzano il circuito anche nella funzione di, come diceva Roberto, certo di riconnettersi ad altri attori economici vicini a lui, ma di cui per mille ragioni, perché parliamo di piccolissime imprese, non sono strutturati per poter conoscere, reperire come fornitori, acquisire come clienti, condividere con loro percorsi in reti di impresa o in altri strumenti. Abbiamo un territorio fatto per lo più da piccolissime imprese, per lo più di carattere familiare, quindi dietro ogni partita IVA poi abbiamo una famiglia, due famiglie, tre famiglie, che se devono guardare al semplice aspetto economico del fare impresa non dovrebbero comprare neanche da se stesse. Se il titolare del market dovesse comprare dei prodotti per fare la cena a casa sua, se deve guardare solo il prezzo, non li comprerebbe neanche da se stesso, dovrebbe andare da un discount e comprare da un discount. È una follia pensare che tutta questa società debba vivere secondo una regola del prezzo più basso, quando in realtà è un'economia fatta di tantissimo valore aggiunto, di servizi ad hoc, di attenzione, di relazioni, di cura del rapporto appunto col cliente e col fornitore. Quindi quello che in un certo senso Sardex riesce a fare è quello di mettere ogni singolo iscritto nella condizione di potersi rivedere una radiografia di se stesso e dire quanto di tutto ciò che sto acquistando lo sto comprando da miei vicini, da persone prossime a me, da imprese vicine a me. C'è qualcosa che posso fare? Da questo punto di vista i crediti sono ciò che abbatte la barriera perché comprare a 100 da un fornitore sardo in credit piuttosto che comprare a 90 da un fornitore globale ma in euro ci pone davanti a una grande differenza e cioè pagare con un mezzo scarso gli euro che in molti casi ha un costo di accesso, di mantenimento eccetera o pagare con uno strumento che invece è molto più facile da ottenere, molto più liquido, senza costi finanziari eccetera e che mi lega al territorio. Quando gli imprenditori si trovano non tanto nella teoria ma nella pratica a poter scegliere questo, scelgono di spendere localmente, di non guardare necessariamente al prezzo ma di guardare all'interesse del gruppo. Abbiamo cercato di far questo, di offrire dei servizi che aiutassero piccole imprese ad avere non internamente ma a fianco una piccola struttura che gli aiuta come ufficio acquisti e quindi ti seleziona i fornitori vicini a te che possono esserti d'aiuto senza che tu debba spendere tempo a farlo perché non hai quel tempo. È un piccolo ufficio vendite che ti aiuta a posizionare in questo mercato ciò che il mercato euro non ti ha conto perché magari non hai una struttura di vendita, una struttura commerciale sufficiente a farlo. Noi quello che abbiamo cercato di fare appunto era di metterci al servizio, lo facciamo con una serie di accorgimenti che magari possono sembrare secondari ma secondo noi non lo sono, ne cito alcuni. Abbiamo scelto da quando siamo nati di avere una struttura commerciale sul territorio e di non avere un'acquisizione dei nostri iscritti tramite un form online. Noi dobbiamo vederci in faccia con i nostri partecipanti, dobbiamo fidarci, dobbiamo fare dei patti, prendere degli accordi, quindi passiamo prima in una dimensione fisica, corporea, dopo in una dimensione virtuale e digitale che poi ci riporta sul fisico perché quando vado a pagare o vengono a comprare da me ci vengono di persona, non vendo online. La seconda è la nostra strutturazione, siamo a Serraman, siamo a Cagliari, siamo a Nuoro, siamo a Sassari, siamo più vicino possibile ai grandi nuclei di nostri iscritti. Terzo aspetto, abbiamo messo grande attenzione a tutta quella che è l'attività se vogliamo non economica del circuito e quindi organizziamo decine e decine di incontri, meeting, eventi, occasioni di networking, aperitivi, ogni genere format di iniziativa da Cagliari alla Maddalena, dal nord a sud, da est a ovest, proprio perché è importante condividere anche questi momenti. Quindi stiamo cercando di costruire questo tipo di relazione noi con i nostri iscritti e far sì che anche loro abbiano delle relazioni forti. Questo secondo noi è la garanzia di solidità e di stabilità più forte per avere prospettiva e futuro. No, la verità, io mi aspettavo che avremmo tirato su un'azienda e ci saremmo dati un lavoro, non così tanto lavoro, però un po' di lavoro sì, però non ci aspettavamo sicuramente nel giro di così poco tempo comunque di arrivare a costruire un modello così solido. Poi oggi vedere che l'Università del calibro di Yale, del Politecnico di Ginevra, piuttosto che della London School of Economics, stanno studiando il modello, ma lo stanno studiando in maniera proattiva. L'adesione al circuito non avviene attraverso la piattaforma. si può prenotare una visita del nostro commerciale che non chiamiamo commerciale, ma chiamiamo CTA, Community Trade Advisor. In questo acronimo c'è proprio la differenza tra l'attività commerciale normale, cioè c'è proprio un'attività di consulenza, la persona inviata da Saldex parla con l'imprenditore, verifica assieme a lui la capacità produttiva in espressa che questa impresa può mettere a disposizione del circuito e parallelamente valuta che cosa gli introiti in crediti di questa capacità messa a disposizione del circuito possono voler dire per l'impresa, cioè che beni acquisterà, che attività potrà comprare dentro il circuito. Se questo equilibrio viene raggiunto, allora si procede all'iscrizione. Non c'è nessun affitto sulle trassazioni, quindi si fa un'iscrizione, un'abbonamento e poi l'impresa effettuerà all'interno del circuito tutte le transazioni all'interno dell'accordo. L'accordo ha come fulcro appunto la quantità di beni che l'impresa si impegna a mettere a disposizione del circuito, viene chiamata disponibilità ed è un impegno contrattuale e normalmente è una frazione del fatturato complessivo, quindi delle vendite complessive che l'impresa effettua nel mercato. Questo non potendo si pagare in coste e tasse in Sardex, ma solo in euro, è importante che i flussi di cassa siano equilibrati in modo da permettere all'impresa da un lato di effettuare le vendite aggiuntive, ma dall'altro lato di avere la liquidità euro necessaria per i propri vendimenti. le tipologie contrattuali sono molto varie, andiamo dall'associazione, dalla piccola onlus alle imprese SPA strutturate, magari anche quotate e le cifre dell'iscrizione dell'abbonamento non sono mai tali da creare problemi a nessuna di queste fasce. Diciamo che per questa via non si ha una crescita particolarmente accelerata perché questo rapporto fisico-personale necessita di un pochino più di tempo da un lato, ma dall'altro lato quando avviene l'adesione è sempre una adesione molto forte, molto convinta sui valori che regolano la vita di questa comunità, infatti abbiamo dei tassi di abbandono che sono veramente riduttissimi. Diciamo che il meccanismo con cui il circuito cresce è un meccanismo che noi definiamo di crescita armonica, chiaramente tu all'interno del circuito devi sempre mediare tra domanda e offerta al fine di far sì che tutte le imprese all'interno possano trovare soddisfazione in termini proprio di fatturato, quindi di volume d'affari generato e allo stesso tempo possono trovare soddisfazione, parimenti in termini di acquisti. Chiaramente la tendenza deve essere quella di portare a pareggio le bilancie, quindi a portare a pareggio il bilancio, il saldo tra acquisti e venditi di ogni singola impresa. Per questo motivo è impossibile immaginare di far entrare chiunque nel circuito in qualsiasi momento. Noi ad esempio non possiamo far entrare 1000 avvocati piuttosto che 400 idraulici tutti assieme nel circuito, perché si creerebbe sostanzialmente una concorrenza eccessiva tra questi in un mercato che non è in grado di accoglierli. Per questo nel misurare, nella misurazione costante di domanda e offerta, nel continuo matchare di domanda e offerta, noi andiamo poi a far crescere il circuito sulla base dei bisogni che lo stesso circuito esprime, chiaramente non eliminando la concorrenza tra imprese, infatti ci sono più imprese dello stesso settore, però allo stesso tempo non andando a saturare i settori di modo che tutte trovino soddisfazione all'interno. Quest'anno, come diceva Carlo, sono state già 95.000 le occasioni in cui ci si è messi d'accordo senza mettere in gioco il denaro ed è qualcosa di straordinario. Il denaro in genere muove o blocca qualsiasi cosa, scatena guerre, incomprensioni, invidi e lotte, fa emergere il peggio dell'umanità quando tanti soggetti si liberano di questa unica, come si può dire, di questo unico strumento ma ne hanno più di uno, penso siano soggetti che ne hanno guadagnato un qualcosa. Sardec secondo me è un elemento che riporta proprio in una strada alla fine di Polaniana una memoria a reinserire nell'ambito del vivere sociale il vivere economico, cioè il vivere economico ridiventa parte del vivere sociale. Non solo, secondo me Sardec di per sé rappresenta un pezzetto di quello che poi era il sogno di Keynes che racconta in esortazioni e profezie, proprio nell'introduzione del libro, cioè arrivare ad un punto in cui l'economia cessa di essere un problema. Lui dice che il problema economico di per sé è solo un brutto pasticcio, è un equivoco, dobbiamo riuscire a risolverlo per far sì che finalmente smettiamo di parlare di economia e parliamo di altre cose che sono più belle. Parliamo d'arte, parliamo del vivere sociale, parliamo delle relazioni, parliamo di altre cose. Il fatto che l'economia sia vissuta come un problema e quindi rappresenti il problema, fa sì che noi subordiniamo tutto il resto. Secondo me Sardec fa un passetto in quella direzione nel suo piccolo e nel suo piccolo ambito di operatività. Una delle definizioni più belle, ultime che ho trovato di moneta è stata moneta e sistema di credito come tecnologia sociale. Quindi da questo punto di vista il fatto di evitare di connotare l'economia come il problema economico, ma come una tecnologia sociale che quindi utilizzate in maniera corretta le tecnologie, non sono buone o cattive, dipende dall'uso. Quindi una tecnologia sociale utilizzata per far star meglio è probabilmente quello che permette a sistemi come Sardec, che lungi da noi definirle come una soluzione, ma sicuramente una parte della soluzione, tendono a limitare le distorsioni che in un sistema economico, cioè sicuramente finanziarizzato, stanno limitabilmente creando. Tu vai al market, paghi in euro, al massimo ti chiedono se hai 1,50 euro per agevolare l'importo del resto. Quando paghi col Sardec, la prima cosa che ti chiedono mentre o stai facendo tu la transazione con l'app o la stanno facendo loro è che cosa fai? quindi questo è quasi diventa automatico il fatto di riconoscersi come appartenenti allo stesso gruppo e quindi la curiosità di sapere cosa fai e capire e spesso succede, qualcuno lo fa in maniera sistematica, che c'è l'occasione per qualche altra cosa, quindi che io sto spendendo da te, ti dico cosa faccio e tu probabilmente spenderai da me. Questa cosa diciamo è una sorta di umanizzazione dello scambio che io prima di Sardec non avevo osservato da nessuna parte, non è un caso, è molto diffuso. Quando capita che il commerciante di Saramana si ritrovi un acquirente di 50, 80, 100, 150 chilometri da lui, che mai sarebbe arrivato a Saramana a comprare quel giubbotto, quella serie di climatizzatori, quel computer, viene fuori questa magia delle relazioni tale per cui la prima domanda, come diceva Roberto, è fammi capire chi sei perché voglio capire se posso continuare ad avere anch'io un rapporto con te, anche nel settore della recettività per esempio, l'albergatore della costa che ospita gli imprenditori dell'interno, poi passa le serate al tavolo con loro a parlare di Sardec, non è un cliente come tutti gli altri, è un altro membro di una comunità, di una famiglia di intenti perlomeno, di una famiglia di persone che dicono non ci interessa quello che succede fuori, sosteniamoci a vicenda, diamoci una mano tra di noi, poi noi intanto diamoci una mano ed è un grande passo avanti. chiaramente non esistono banconote Sardec, non viene stampata carta, non c'è nulla, come dicevamo Sardec è un'unità di conto digitale, è un'informazione relativamente a cosa? A debiti e crediti di ogni iscritto verso la comunità, debiti e crediti che si riferiscono sostanzialmente a diritti e doveri che ogni singolo ha verso gli altri. Per effettuare le transazioni, quindi per poter pagare, utilizzare i crediti Sardec per pagare, abbiamo una carta di pagamento che può essere presentata nei punti vendita, che è utilizzata attraverso un virtual post, oppure abbiamo la app, quindi una app Android e iOS che può essere utilizzata direttamente presso il punto vendita per fare le operazioni. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Grazie! Grazie! Grazie!